Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fippili per lavori, 2 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino, rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina e 1 km di coda tra Ginestra e La Strassigna in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra e Montelupo in direzione Livorno. Per lavori, chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Per quanto riguarda le autostrade, in A1, code a tratti per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto-Fiorentino in direzione Roma. In A11, in direzione Firenze, code a tratti tra Montecatini e il Bivio con l'A1 e rallentamenti tra Sesto-Fiorentino e Peretola. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info